In accordo con i suoi legali, Walter Giordano, il professore del liceo Soleri di Saluzzo accusato di atti sessuali con due sue allieve, ha rinunciato all'udienza del tribunale del riesame prevista a Torino per lunedì 9 settembre, decidendo di restare agli arresti domiciliari ufficialmente per evitare l'assalto dei media. In realtà, i suoi legali hanno comunicato anche che renderanno note più avanti le motivazioni di questa scelta. Dalle prime sommarie indiscrezioni su quanto dichiarato da Walter Giordano in procura, dove è stato nuovamente ascoltato sabato 7 settembre, sembra che l'ex professore del Soleri di Saluzzo abbia riconosciuto i rapporti sessuali con entrambe le liceali, specificando che si è trattato di rapporti consenzienti e non violenti. Al momento, Walter Giordano è accusato di aver violentato sessualmente le due studentesse, abusando della sua autorità, ma anche per detenzione di materiale pedopornografico. Presto Giordano dovrebbe abbandonare la casa di Don Benzi, dove era già agli arresti domiciliari, per essere portato in una nuova sistemazione. Don Franco Giuli, l'ex paroco di Frazione Miroglio di Frabosa Sottana, è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di recitazione aggravata. Recentemente, Don Giuli era stato rimosso dall'incarico di paroco di Frazione Miroglio dal vescovo di Mondovì, Luciano Pacomio, ed aveva attirato l'ostilità dei fedeli proprio a causa dei suoi guai giudiziari. È prevista per lunedì 9 settembre l'udienza di convalida del fermo di Lucia Manassero, la donna di 50 anni che ha coltellato al torace il marito l'ex muratore 56enne Aldo Terreno a Magliano Alpi, dopo un litigio di circa un'ora avvenuto la mattina di venerdì 6 settembre alla presenza della loro figlia del 15enne. Sarebbe stata mossa da ragioni che sono tuttora da chiarire, ma che andrebbero ricercate apparentemente nella situazione economica della coppia e forse nella gelosia che la donna, ora reclusa nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, provava per il marito. Al momento le sono contestate solo le lesioni gravi. Aldo Terreno è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Mondovì Regina Monti Sergalis. Nonostante sia cosciente, le sue condizioni appaiono ancora gravi ed i medici che lo hanno operato non hanno ancora sciolto la prognosi. Prima sconfitta stagionale per il cuneo di Andrea Sottil, che al debutto casalingo in campionato di fronte al pubblico dello stadio Paschiero perde di misura con il Sant'Arcangelo di Fabio Fraschetti, a decidere l'incontro una sola rete al 32esimo della ripresa del centravanti ospite D'Antoni, in gol dopo un dubbio controllo di palla con il braccio. Il bra calcio è stato sconfitto a Rimini per 4 a 1. La partita si è svolta a Rimini domenica 8 settembre 2013.